Chi è Guido Guidesi? Risiedo in provincia di Lodi, sono fino a ancora per un mesetto il segretario provinciale di Lodi da sette anni, segretario provinciale della Lega, risiedo in un piccolo paesino rivierasco della provincia di Lodi di cui vado estremamente orgoglioso, in Rival Po, sono semplicemente un ragazzo normale. Perché sei candidato? Mi sono candidato perché innanzitutto mi hanno chiesto gli altri militanti della mia provincia, la cosa mi ha fatto molto piacere e oggi questa novità è un segno di orgoglio per me, ma anche credo di meritocrazia per il lavoro fatto. Qual è la sua esperienza? La mia esperienza è un'esperienza dal punto di vista politico-territoriale, un'esperienza di coordinamento anche delle amministrazioni varie e quant'altro, però principalmente il mio obiettivo è quello di portare qua la sensibilità e le esigenze della gente, della nostra gente e cercare di dare risposte a loro. Di cosa si occuperà? A quanto pare vado in commissione bilancio, per cui sarà sicuramente un'esperienza affascinante, sicuramente impegnativa, ma questa esperienza mi darà l'opportunità di vedere un po' tutto e di vedere tutti i meccanismi. Nella vita privata infatti lei è? Nella vita privata attualmente collaboravo con Regione Lombardia, prima con il vicepresidente Gibelli alle attività produttive, poi con l'assessore Fava all'agricoltura, per cui ho una chiara visione di quanto è il mio territorio.